Una storia a lieto fine ci è stata illustrata oggi dai carabinieri. Inizia a fine 96, quando nella seconda abitazione della famiglia Lodola a San Vincenzo viene perpetrato un furto e tra le altre cose viene preso dai ladri anche un quadro del 1881 che apparteneva alla famiglia da generazioni, ritratto di fanciullo con cappello di Michele Gordigiani, uno dei più conosciuti esponenti della scuola dei macchiaioli. Possiamo parlare tranquillamente di una storia veramente a lieto fine. I carabinieri individuano gli autori del furto e in un loro capannone a Campiglia ritrovano il quadro nel 2002. Così tanto tempo, grazie alla tecnologia che intanto si è avanzato, alla banca delle ricerche di opere d'arte da ricercare, che ci ha dato finalmente il match con la famiglia Lodola, che è stata poi rintracciata e stata resa edotta del ritrovamento del quadro sottratto nel lontano 96. L'immediatezza dopo gli arresti svolti dalla compagnia Carabinieri Portoferraio ci fu una vera e propria attività di sinergia tra i vari reparti territoriali, quindi le varie prequisizioni svolte anche su Campiglia, su San Vincenzo, quindi dall'arma territoriale congiuntamente alla compagnia Piombino di Portoferraio. Successivamente ci fu un'opera di raccordo, di accertamento tecnico svolto dal nucleo della patrimonio culturale di Firenze, che ha svolto veramente un'attività preziosissima e ha consentito effettivamente l'identificazione della titolarità del quadro. Oggi quindi la certezza che il quadro è quello trafugato dall'abitazione dei Lodola, il signor Mario, proprietario, nel frattempo è deceduto. Sono titolari quindi le due eredi, Marina e Franca. Un momento importante, ha detto la signora Marina Lodola, alla presenza dei Carabinieri di Portoferraio e della nuova direttrice dei musei napoleonici Elbani, Antonia Daniello. Finalmente torna a casa il quadro dopo quasi 20 anni. Il quadro, dalla villa dei Mulini, dove è stato custodito in questi anni, tra tre giorni tornerà sul continente dai legittimi proprietari.